musica 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 ciao ragazzi e benvenuti a oggi a questo nuovissimo video sono capodollarsi e oggi siamo in questa nuovissima serie il nome di questa serie è The Crafting Dead e questo è un hardcore survival tipo ed è tratto dalla storia della sitcom in onda su sky e su fox chiamata The Walking Dead The Walking Dead ha come scopio primario quello di sopravvivere e quindi implementato su minecraft è una figata e basta ho detto tutto generiamo il mondo e cominciamo questo incredibile survival vino di scenemozio fiato no invece no dai cazzo che tempo ci vuole musica 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 Si è creato Prima si era bloccato ed è andato tutto nero Ma ho risolto subito con una super magia Che se non sapete faccio prestigiatore Sono un mago Ok Adesso ci dirigiamo subito Verso qua E che l'avventura ebbe a inizio ragazzi Finalmente Ci mancava il bug Della luce di merda A posto Ah baseball bat Abbiamo una mazza da baseball Andiamo piano piano Senza far troppo rumore E Bene Nessuno si è accorto di noi ragazzi Una mela Che bello Ancora una baseball bat E una candy bar Oddio è la prima volta che mi esce Questo anche perchè non ho cominciato subito Sono la prima volta che ci gioco Ok abbiamo trovato Il massimo delle cose Proviamo ad uscire Che da arrivare Vivi dall'altro lato Cazzo 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 Terra terra Muoviti Bene Oddio qualcosa di raro Eeeh Mi è uscita questa cosa Che potenza E' un'arma buona Questi qua verdi sono Così è la sound grenade Ah sound grenade è quella là per fare Il rumore Che come si dice Attira gli zombie Anche perchè gli zombie se non sapete Sono attirati dal rumore Cioè sono down E ci vedono pure Bah E non prendere i giri down ovviamente Anzi dovete portare rispetto a down Eh Ok Prendiamo un po' di sabbia Visto perchè dobbiamo Salire di là Non si può mai sapere Possiamo trovare qualche Piccolo bughino A posto Abbiamo trovato una morfina Questa è per quando ci rompiamo le Le zampe Perchè ne abbiamo le zampe Abbiamo trovato una M10 Suppresse Doddio E questa la spostiamo di qua Ecco qua M10 14 ammo Abbiamo anche le munizioni Questa la ricarichiamo A postissimo Abbiamo due armi preparate e pronte Camouflage clothing Guardate qua Quanto sono figo Ok ragazzi Secondo me sarà Una dei migliori survival Che ho mai cominciato Anche perchè non è la prima volta Che registro Ok Abbiamo trovato solo quelli vuoti A postissimo Devo andare di là Ecco Di là Ma come sono forte Cazzi scarica No no Questa è la MP5 I caricature Caricature Per la MP5 Cazzo cazzo A posto a posto M4 A1 Munizione Oddio No 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 Stavo scherzando Cazzo voi Cioè rendete conto Ma che simpatia Che hanno questi Insomma Ecco Stiamo trovando Abbastanza Molte cose Cazzo cazzo Sono morto Sono morto Devo andare a riprendere Subito le mie cose Come cazzo si fa a morire così Come si fa a morire così E io che volevo fare un hardcore Vaffanculo Ok corriamo subito Andiamo 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 Guardate un po' Quello che voleva Voleva il mio autografo Ma io corro Perché non glielo voglio fare Ovviamente Tanto noi Dobbiamo correre Che cazzo Facciamo fare così Scusate Facciamo così Tum Così rientriamo Alla ninja Alla ninjese Dove è quella troia Avevo visto Quella troia di merda Prima che mi ha acciso Andiamo tutto Ok è appostissimo La pistola Dove è la pistola La mia M9 Dove è Ok altro blood Altro sangue Da conservare qui Quindi penso che Dovremmo Cazzo cazzo Ok 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 Gioco si fa duro Gioco si fa duro Ecco la pistola L'ho vista Non posso L'ho distrutto in destra Direi che dovremmo passare All'altra prigione Di là Aspettano Saliamo alla ninjese Anche di qua Perfetto Che mi è uscito La remington 700 Buona Arma Molto potente Aspetta Forse deve esserci Qualcos'altro Lassopra C'è un modo per salirci Non lo sappiamo Quindi Dobbiamo provarci subito Nulla Ok Dobbiamo scendere lentamente Senza far rumore Senza farci del male Tanto ho aspettato un attimo Che mi metto Questa suppress Dovemmo buttare Questa qua E Con il silenziatore vicino Dovemmo anche la pistola No Cazzo vecchio Ho sparato Altro sangue Anzi no Non è sangue La soda E un M9 Ho trovato Una clock 21 E una M9 Due buone pistole Con R Aspetta Come cazzo si mirava Con R Con Ah questa non c'ha un mirino Si non c'ha Ok dovremmo passare C'era un'altra Ah no Eh ragazzi La droga fa male Si Troppo Troppo Ecco anche problema Ecco ragazzi Oddio Che è qua Va bene Andremo Sparare Penso Guarda sta troia Ma poi Se abbiamo trovato Un'ascia Benissimo 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 Corri 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 Non abbiamo la sabbia Ci serve la sabbia per chiudere Mettiamola Nell'inventario No Aiuto Oddio 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 Cazzo che medical pack Beh ragazzi E al prossimo episodio Penso che Non penso che riuscirò Subito Abbiamo anche un boi Knife E poi E il suppressor Ormai che si metteva così Non così Vediamo un po' come cazzo si metteva Non mi ricordo Per mettere il suppressor Vogliamo arrivare dall'altro lato Però ci serve Della sabbia o qualcosa altro Quindi prendiamo questi Attiriamo gli zombie all'interno E scappiamo Mangiamo Aspettate una costaletta di maiale Penso che ci faremo male Quindi prepariamo la morfina Speriamo solo di no Ma posso no 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 Siamo vivi Possiamo correre Qua non ci stiamo andati Cazzo cazzo E non perdo ancora sangue Oddio Sono potentissimo Ho un'infinità Infinita Ah ecco come se si mette al pack Per far crescere i nuovi cuori E io non lo sapevo Perché sono un coglione Mangiamo una mila al volo Ok no Non ce la mangiamo invece Possiamo Possiamo andare Da un'altra parte Direi di andare lì Aspetta un attimo Gli zombie Dove sono gli zombie? Eccolo Ce n'è uno lì Frate ma A posto Prepariamo un po' Di tutto Che adesso dovremmo saltare Dovremo saltare Cazzo Possiamo correre Tanto stiamo perdendo sangue No No stiamo perdendo sangue Non voglio morire qua in mezzo Non voglio morire qua Io qua non ci muoio No Ecco 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 Che ragazzi sto per morire Sto per morire Me lo sento Ne sono sicuro Le bende Dove cazzo sono le bende Mi era uscita una be Le bende Non abbiamo le bende Per fermare il sangue di merda Andiamo Perfettamente E ovviamente non ci uscirà una benda Mi piace uscire Mi piace uscire una benda No Perché capo deve morire Eh Non mi sembra ovvio Andiamo la M9 Quindi adesso La ricarichiamo Intanto qua inizia a fare notte E' un po' Andiamo arrivare di là ragazzi Dobbiamo ricaricato anche l'arma Oddio Ho suonato il telefono E vediamo un po' Cosa fare Pensa proprio che La notte la passerà qui dentro Non abbiamo nessuna torcia Niente Un cazzo l'abbiamo Dobbiamo arrivare per forza di là ragazzi Dobbiamo andarci Dobbiamo andarci Bene ragazzi Spero che questo vi sia piaciuto Lascio il video finire qui Perché nella prossima puntata Andremo da quell'altro lato E quindi scopriremo un po' La situazione Se morirò o se rimarrò vivo Un like se volete che rimanga vivo Oppure no Bella La notte la Grazie a tutti.